Sarà Stano, alle matricole. Ma da notifica qualcosa, comandante? Io so che lei non c'era. Ma non bisogna guardare il cielo per capire da dove piove. Eh, è la stessa cosa che mi dico pure io quando sto qua dentro. In isolamento io ce la lascio finché lei non diventa vecchio. E da oggi sono sospesi i colloqui e i pacchi. Non c'è problema, comanda. Io posso fare a meno di tutto. Ma voi siete sicuri che potete fare a meno di me? Ciao. Grazie a tutti.